Un fine settimana di pioggia ha moltiplicato i guai già esistenti da tempo sulla principale arteria cittadina, percorsa da migliaia di automobilisti ogni giorno. È l'asse viabilistico dei viali agricoltura, commercio e industria, soprattutto negli ingressi di alcune rotonde. Qui il dissesto stradale è elevato, buchi e sobbalzi per centinaia di metri. A fronte di questa situazione il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa ha già in serbo dei provvedimenti. In merito alla problematica delle buche che si sono formate, in particolare dopo gli intensi giorni di pioggia dei giorni scorsi, lunedì come sempre ci siamo subito attivati tramite i nostri servizi per andare a chiudere le buche più pericolose e appunto quelle più evidenti e stiamo continuando in questi giorni a risistemare il manto stradale. Certo è che in alcune di questi tratti non è sufficiente solo la chiusura della buca. Ci sono alcuni tratti infatti che sono già finanziati con i progetti approvati che aspettano solo l'inizio della bella stagione per essere attuati i progetti di riasfaltatura. Per esempio tutto il tratto della 494 nella zona, per capirci, del Ducale oppure il tratto di viale agricoltura. Insomma ci sono diverse assi viari importanti della città per i quali è già prevista un importante lavoro di riasfaltatura e di sistemazione. So che le strade sono tante, noi abbiamo una rete viaria molto diffusa, molte strade ancora diciamo di proprietà privata quindi è sicuramente un'eredità importante del passato che dobbiamo cercare di sistemare col tempo. Gli interventi non saranno solo sugli assi viari ma cercheremo di andare ad intervenire anche in altre aree più periferiche ma che magari hanno un transito di auto molto importante. Inoltre abbiamo attivato un servizio, è stato dato un incarico specifico a un'azienda specializzata di monitoraggio costante di tutta la situazione diciamo delle buche presenti nella nostra città. Questo sistema, questo incarico che è stato assegnato ci consentirà di avere una fotografia sempre aggiornata che chiaramente consente al Comune di poter essere immediatamente proattivo al verificarsi dei problemi come quello dell'altro giorno e quindi sapere già dove intervenire identificando le buche più importanti su una mappa già aggiornata è disponibile e questa fotografia aggiornata alla situazione serve anche per la gara che viene fatta ogni anno sulla manutenzione ordinaria per ovviamente mettere a conoscenza di chi partecipa alla gara della situazione quindi di dove dovrà intervenire poi durante lo svolgimento del proprio mandato. Ma diciamo che questo sistema di rilevazione costante delle buche in città serve anche molto a noi per essere immediatamente magari più efficienti nell'andare a sistemare le buche senza dover aspettare la segnalazione e quindi essere proattivi ecco nell'intervento.